Un emendamento, il XIII alla Costituzione americana, sancisce la fine definitiva della stiavitù negli Stati Uniti d'America. Il protagonista è Abramo Lincoln, primo presidente repubblicano, che già durante la guerra di secessione aveva utilizzato la lotta alla stiavitù come un'arma importante contro la Confederazione. Abramo Lincoln pagò anche con la vita queste sue scelte, scelte che portarono dal 1863 al 1865 alla liberazione di 4 milioni di schiavi. Naturalmente la fine della stiavitù non significa emancipazione e fine delle diseguaglianze. Ancora un secolo dopo, Rosa Parks fu protagonista di un movimento originato dal suo rifiuto di cedere il posto a un bianco in autobus e ci vorranno ancora qualche decennio prima che gli Stati Uniti abbiano un primo presidente nero.